Precisi come un orologio svizzero, d'altro canto trasmettiamo dalla Svizzera, buongiorno a tutti da Enet Burgen, Cantone Idvaldo per una puntata che non mancherà anche quest'oggi di stupire, si parla di fiscalità ed effettivamente è un tema che interessa tutti quanti. Prima di tutti bisogna guadagnare nel trading per parlare di fiscalità, però supponiamo che uno i suoi profitozzi li porti a casa, ora vorrei paragonare, dato che ogni tanto me lo chiedete in alcune dirette anche molto spesso, qualcosa che uscilla, quanto si paga di tasse per fare trading online, quando bisogna pagarle, quando no, perché qualcuno dice che non bisogna pagarle o pagarle in determinati modi eccetera, non vi parlo da fiscalista o commercialista ma vi parlo da uomo libero, in partenza per il giro del mondo, quindi sesta tappa, ripartenza per il giro del mondo. Quindi prima di tutto brevemente un occhio alle posizioni del mese chiuse, prima di partire ho alleggerito ancora un pochettino il portafoglio, quindi sale a 19.228.62 Euro il profitto degli ultimi 30 giorni, delle posizioni chiuse, 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 oggi è stata la volta della chiusura di Audi USD. Ne parliamo dopo, adesso parliamo del topic della giornata che appunto è la fiscalità. Allora ho preparato un piccolo file che è intanto al mio fiduciario, perché si chiama così il commercialista in Svizzera, di prepararmi il numero esatto per non far figure, di quello che si paga nel Ticino rispetto a Nidvaldo, che sono i due cantoni della Svizzera, dove stavo prima il canton Ticino dove c'è Chiasso che confina con Como, poi si va su a Lugano e via così. Poi si attraversa Bellinzona e si va poi nel canton Grigioni, qualcuno l'avrà sentito. Poi ti spari il San Gottardo, che in queste settimane me lo sono fatto un po' di volta in su in giù, perché appunto c'era mio fratello in visita con mia nipotina, quindi mi sono fatto un po' di volte il San Gottardo, che in questo periodo chiaramente è trafficato per le vacanze, perché il nord va in Italia in macchina per visitare le meraviglie italiane e il sud va su al nord, quindi ci si trova tutti nel San Gottardo e ci si fanno i tre chilometri di coda. Quindi il Ticino ha una tassazione che è diversa da quella di Nidvaldo, i cantoni sono 26, il canton Nidvaldo è un cantone con una tassazione molto più bassa, sia per i proventi che arrivano dall'impresa, per le imprese, si parla del 21% in Ticino e del 9,76 a tassazione finita entro il 2025 per il canton Nidvaldo. La Svizzera dopo la caduta del segreto bancario e la volante redisclosure che ha cercato di far riportare in Italia e in altri paesi i danari che erano in Svizzera non dichiarati ha deciso che l'hanno messa alle strette, quindi il segreto bancario è caduto, tranne per i residenti svizzeri, un residente svizzero come me o un nativo svizzero, chiaramente svizzero al 100% doc ha ancora il segreto bancario, ma il problema è che il segreto bancario ce l'avevano i furbetti che non dichiaravano, quindi questa roba è caduta. Quindi la Svizzera cosa ha fatto per riqualificare? Chiaramente alcune banche hanno licenziato del personale, alcuni commercialisti che lavoravano perché gli cadevano i soldi addosso hanno dovuto vedere ridursi di molto le loro entrate o chiudere. Le fiduciarie che facevano trading con il denaro di terzi, un po' per quello, un po' per le nuove normative vigenti che hanno messo la Svizzera a combattere contro una normativa, quella europea che era molto più stringente, insomma è stato un momentaccio. A questo punto ha deciso, facciamo così, facciamo un referendum e questo accadeva non mi ricordo se nel 2018 o giù di là, chiedendo agli svizzeri, ragazzi che famo? E allora ha detto, volete la concorrenza fiscale tra i 26 cantoni della Svizzera e allora loro hanno detto sì, firmiamo. E quindi ogni cantone svizzero entro il 2025 potrà e lo farà abbassare la propria tassazione. Nei primi tre posti c'era Gianni Valdò che è il cantone sicuramente non conosciuto come Zurigo, Ginevra, Lucerna, Zug e il Ticino, ma che è i primi tre posti o forse i primi due per la tassazione più bassa già da allora e che andrà ancora meglio perché andrà al 9,77. Questo esiste per la tassazione delle aziende, ma oggi vedremo la tassazione dei traders, cioè coloro i quali vivono e risiedono in Svizzera, quindi non è che aprono il conto in una società banca svizzera o fanno la finta residente. Una persona che vive e risiede in Svizzera non ha bisogno di fare una società per fare trading online, può farlo come persona fisica, perché se lo fai come società, noi lo facciamo con la società con cui noi vendiamo i servizi, corsi eccetera, li tassiamo con l'aliquota di tassazione da rendito d'impresa, quindi il 9,76. prima in Ticino il 21. Ora, se Max fa trading con i suoi soldi come persona fisica, come viene tassato? Sulla base di quale aliquota? Sulla base di quale tipo di tassazione, perché ne vedremo delle belle? Rispetto al Ticino Svizzera e rispetto all'Italia? E scoprirete perché la Svizzera è il paese del capitalismo e del capitale umano, del capitale personale, cioè avere dei soldi in Svizzera e farci capital gain è il paese migliore sul pianeta terra, se lo paragoniamo anche al fatto che la Svizzera non è più in blacklist, non ha più il segreto bancario, quindi non è più una roba che se vivi in Svizzera o mandi i soldi in Svizzera si accendono le luci rosse e gli allarmi delle banche, perché non è un paese attenzionato, poiché con la caduta del segreto bancario ha aperto dal punto di vista fiscale le sue dogane a una maggiore trasparenza, quindi i rapporti bancari tra le banche svizze e europee sono l'indie. Il sistema bancario svizzero rimane il più potente consolidato al mondo, la valuta svizzera viene considerata un bene rifugio, quindi nessuno ha paura di tenere soldi in franchi e comunque i svizzeri i soldi si possono tenere in qualunque divisa, i soldi sui conti correnti vengono, diciamo come si dice, pagano un X all'anno se i depositi sono superiori ai 500 mila o ai 700 mila a seconda della banca, quindi voglio dire comunque le cose si fanno e a questo punto però cosa succede se uno guadagna un euro dal trading online? Ma prima voglio salutare i miei pupilli codiciani, Monica, prima le codiciane e Camillo i codiciani, salutiamo un po' di persone nuove e diamo un messaggio di servizio, allora purtroppo in queste ore c'è tale stronzo, che non sappiamo chi è ma fa così, l'abbiamo battezzato così, che è una vera e propria organizzazione, quindi non è solamente uno, che non ha solamente clonato il mio profilo Facebook da diverso tempo, adesso ha clonato il mio profilo Instagram, ha clonato il mio profilo Instagram facendolo uguale, cioè mi ha copiato anche i post, si sono organizzati per bene e quindi l'ha chiamato Max Merighetti official, come se fossi io il fake invece, e quindi vi contatta, fate attenzione perché quelli che ci hanno clonato prima e che continuano a farlo in Facebook propongono dei concorsini, dammi la carta di credito chiaramente da non fare, questi qui invece sono ancora peggio, propongono di aprire un conto di trading con la loro piattaforma che loro ti fanno fare il 500% alla settimana, non sono io e non è il mio staff che vi contatta perché non lo facciamo mai, siete sempre voi che contattate noi su Facebook, Instagram, da Messenger e ci dite cosa volete, o ci contattate in WhatsApp, o ci scrivete via mail, o comprate sui nostri siti internet, mai e poi mai uno con la faccia di Max vi ha contattato, al limite in Messenger, se scrivete sotto i commenti, ma dal profilo ufficiale e di base, siete voi che scrivete i commenti, siete voi che ci contattate, per cui se uno con la faccia di Max che mi hanno grappato da Instagram, con gli stessi contenuti di Instagram perché me li hanno grappati, vi scrive e vi dice vuoi fare il 500% in 4 giorni di base e mi dai pure i soldi sulla mia piattaforma per farlo di base, non sono io come potete immaginare, ce l'avete segnalato in tantissimi, grazie, fate attenzione a non cadere in questa roba, purtroppo è il lato negativo di avere un po' di fama, è che qualcuno fa lo stronzo e cerca di specularci sopra. Ciao Giovanni, è successo anche a me Alberto, è successo a tantissimi, avete scritto ai tutor, avete scritto in Messenger, qualcuno che ancora aveva il mio numero ha scritto a me, per cui ciao carissimo, e quindi è una roba da non fare. Luca, buongiorno a tutti i codiciani, esatto, promette il 500% a settimana, agganciando il conto, fra l'altro è gestione, non la faccio, non si può fare, salvo in Svizzera potrei farla con le debita e autorizzazioni di una società svizzera, ma non lo faccio, quindi non lo faccio. Diego, il nostro 500-700%, adesso non so se 800, carissimo Alberto e così via, allora andiamo bando alle ciance sul topic della giornata, poi magari facciamo un giro sui mercati e parliamo un po' perché abbiamo alleggerito il portafoglio, non chiuso le posizioni, alleggerito. Allora oggi volevo parlarvi del famoso topic, vi ho preparato un failetto così non dovete neanche prendere gli appunti, cioè la roba, io ci metto 5 minuti, voi godetene tutti e va bene così. Allora vediamo se il file che condivido è quello giusto, no non è quello giusto, questo è quello del fiscalista che me l'ha mandato, share screen, io l'ho copiato, incollato di qua, perché non lo trovo, l'ho copiato, incollato e la peppa. Tax trading, ho creato una roba, tax trading, eccolo qua, che si dovrebbe vedere tra poco. L'ho fatto bello grande con i numerosi, i belli tosti. Eccolo qua, allora prima novità, di solito quando si parla di pagare tasse su un profitto derivante da attività di lavoro, business, imprese eccetera o di trading, comunque si parla di una percentuale sui profitti, siamo tutti d'accordo fin qua, qui, quando si pagano le tasse, le tasse si possono pagare secondo delle aliquote, delle percentuali diverse, o perché cambiano sulla base degli scaglioni, cioè più guadagni e più la percentuale che paghi alta, oppure perché certe categorie vengono tassate in certi modi. Quindi il trading online di base viene tassato sotto la voce capital gain, cioè profitto da capitale, cioè tu non fai un'attività professionale classica. In realtà non è proprio così, perché se uno fa il trading a tempo pieno e fa sette eseguiti al giorno sta facendo un'attività professionale classica, però in Italia non esiste la categoria del trader e neanche in Svizzera, esiste la società di gestione che lo fa come attività, ma il privato di base si ritiene che faccia in quel modo rendere il suo capitale. Quindi se fa rendere il suo capitale perché investe con un'operazione all'anno o ne fa dieci al giorno, di base sta facendo rendere il suo capitale. Qualcuno potrebbe dire attenzione perché se mi fai dieci operazioni al giorno potrebbe essere attività professionale. Però buttiamo via questa ipotesi e prendiamo tutto ciò che viene dal trading online speculativo, di breve, con o senza lo stop o perché ho comprato le azioni tiscali, canistraccioioi o bitcoin, a questo punto nel mondo delle cripto supponiamo che arriva la fine dell'anno o un profitto. a questo punto, vedete che siete in tantissimi, sì 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 che vi contattano, allora nuove equitanze come emittente, se non voglio anche io, allora a questo punto cosa succede? Quando io praticamente dichiaro di avere un provento pago una percentuale sui profitti, allora io qui ve l'ho segnata, si chiama capital gain e in Italia si paga, lo metto rosso, il 26% col font in bianco, bello in grassetto, quindi in Italia quando ho iniziato io a fare trading era zero il capital gain, era il paese dei paesi paradisi fiscali per il trading online, perché? Perché di base in Italia non c'era la cultura dell'investimento in prodotti di investimento se non le obbligazioni, non c'era tanta gente che comprava le azioni, c'era ancora la dinastia dei bot e dei titoli di Stato e quindi diciamo che per quei pochi che facevano trading lì o compravano o vendevano della roba non si pagava niente, il capital gain è arrivato un po' di anni dopo e è nato mi pare al 12 e mezzo che era comunque la tassa più bassa che c'era in Italia e io ricordo di aver fatto tutti gli step, fino a che sono andato via dall'Italia e dopo gli ultimi aggiornamenti oggi, correggetemi se mi sbaglio, si paga il 26% che è più dell'IVA che è salita al 22, quindi il 26% è comunque una buona liquota perché sotto il 30-33% ma comunque comincia a essere pesantino, quindi se io in Italia faccio 10.000 Euro di profitto pago 2.600 Euro di tasse, ora se io ho 10.000 Euro sul conto in Italia pago dei soldi per il fatto che ho 10.000 Euro sul conto, per il solo fatto che ho 10.000 Euro sul conto, pago dei soldi, sì o no? Domanda che vi faccio. Grande Max, benvenuto. Allora intanto voi vi scrivete che ci sono questi profili fake miei, l'importante è che avete capito tutti che ci sono perché è una roba da debellare, no, quindi se io in Italia ho 10.000 Euro sul conto, 100.000 Euro sul conto non ho una tassa sul capitale, ho una tassa sul capitale gain, cioè sulla resa di questi soldi, se io mando i soldi su un broker estero ho una piccola tassa per il fatto che li ho mandati fuori che mi pare che si chiama IVAFE perché non c'ero da tanto quando è uscito. In Svizzera sì, allora adesso capite quali sono i due grandi mondi e a che cosa inducono questi grandi mondi? Perché quando Max l'ha capito, oramai si tratta di più di 10 anni fa, ha preso, ha fatto le valigie e si era andato fuori dai maroni. Allora che cosa succede? Succede che in Svizzera se io ho sul conto mio un milione di Euro, si chiama sostanza, quindi il capitale, io sulla sostanza indipendentemente che mi rende o non mi rende, pago un'imposta, in Svizzera le imposte sono tre, c'è la federale, la cantonale, la comunale, chi se ne frega, il totale se stavo a Lugano era 4.000 franchi. Adesso che sto a Nidvaldo è 1.040 franchi. Lasciamo stare se ho altri redditi entrati, chi se ne? Questa è l'imposta su quella che si chiama sostanza, cioè quello che io ho, la sostanza può essere, ho un'azienda, viene valutata un milione, mi tassano sulla sostanza, ho un immobile, viene valutato un milione, mi tassano sulla sostanza, ho un milione in banca, sostanza, mi tassano. In tutti e tre i casi pago a Nidvaldo, Ticino, Ticino 4.000 franchi, Nidvaldo 1.000, quindi un quarto. Si parla della sostanza, lasciate stare se poi quell'immobile che vi rende, ci sono altre tasse, se avete un'azienda o prendete uno stipendio e ci sono altre tasse. Ma attenzione alla bomba tonica, se fate trading online non c'è una cippa, il mio commerciante si chiama cippa, tanto le direte non le vede, di altra sostanza. Ciao Bruno. Cioè se io faccio trading online, ho un milione sul conto, io pago 1.000 franchi alla fine dell'anno e come si dice, ciao Pep, bim bum bam e faccio i boom balor, quindi sul conto da 1.200.000 di max, quanto pago? Pago 1.150 franchi, fine della storia. Vuol dire che se io faccio trading, non faccio trading, li lascio in banca, mi pagano un interesse, incasso delle cedole, compro le azioni, compro quello che mi pare, ci guadagno o ci perdo, chi se ne frega, Nidvaldo prende 1.000 franchi tra il comune, la federazione e il bim bum bam. Avete capito? Avete capito a me? Che io capito a voi? Che avete capito a me? Fantastica. Ci torniamo per essere sicuri che ci siamo capiti a me tutti quanti. Quindi in Svizzera, Nidvaldo, se io ho un milione e non ci faccio trading, comunque pago 1.040 franchi, ve lo coloro di verde. Se in Italia ho 10.000 euro di profitto, pago 2.600. Quindi adesso coloriamo l'Italia in rosso, con il font bianco in grassetto e Nidvaldo in verde. Chi è in vantaggio? Allora attenzione, io, però bianco e verde non si legge una cipa o cipa, allora se io in Svizzera ho un milione, pago 1.040, se ho guadagnato 0, pago comunque 1.040. Ma se un italiano fa 10.000 euro di profitto, il 100% di 10.000 euro, paga 2.600, paga il doppio di me. Però lui ha fatto dei profitti, io non ancora. Ma cosa succede se io faccio 10.000 euro di guadagno in Svizzera? Che pago sempre 1.040 franchi. Quindi se io faccio 10.000 in Svizzera, pago 1.040 franchi. Se li fai in Italia, paghi 2.600. Ha giù capito bene? Ti faccio un altro esempio. Se Max fa 100.000, supponiamo 137.000 che è l'operazione che ha chiuso a luglio. In Italia ci paga 35.620 euro, in Svizzera 1.040 franchi. C'è una flat fee. Cioè se tu vivi in Svizzera, e andiamo a zoomare e vediamo bene, se tu vivi in Svizzera e fai 137.000 euro di guadagni dal trading online, operazione di luglio chiusa, Max ci paga 1.040 franchi, fine. In Italia ci pagherebbe 35.000 euro. È chiaro? Perché? Perché in Italia ti tassano il 26% della resa del tuo danale. In Svizzera ti pagano, ti fanno pagare un X piccolo sul tuo capitale. Quindi è una specie di Paypal. La Svizzera sa che pochi maledetti, porchi e subito, li prende tutti gli anni. Quindi sa che il suo gettito fiscale è garantito. In Svizzera ci sono i ricchi. È normale. Gli stipendi minimi vanno da 5.000, 6.000 franchi in su, in piccino, figuratevi qui da noi. Boh, non so quanto è lo stipendio minimo. Cosa succede? Per tirare sull'erba ti danno 6.000 franchi. C'erano qua oggi quelli che tiravano sull'erba, probabilmente prendono 6.000 franchi. Cosa succede? Succede che siccome è il posto dove vengono quelli che hanno i patrimoni, non solamente prima ma anche adesso, loro sanno che quelli che vengono qua ci hanno da qualche milioncino in banca a qualche decina di milioni in banca. Se io prendo l'X% piccolo di tutto il patrimonio, sono sicuro che ogni anno i patrimoni degli svizzeri non scendono. Io ogni anno ho un gettito fiscale garantito, ho un cash flow garantito, che mi dà due benefici. Uno, sistemo le strade, sistemo gli asili, pulisco il prato, tengo le aiuole, infatti in Svizzera la perfezione è d'obbligo. L'altra cosa è che non è che se va male l'imprenditore, se va male l'impresa, se c'è un casino, il gettito fiscale crolla e io devo inventare la nuova tassa da far pagare al povero. No, perché il ricco sfondato avrà sempre i suoi soldi sul conto, magari quest'anno anziché avere 100 milioni di patrimonio, ha perso in borsa, perché è crollato tutto, ha 80 milioni di patrimonio. Poretto lui, gli tasso quel pezzettino insieme a tutti e io so che avrò un gettito fiscale garantito. Il secondo effetto è che lo Svizzero, vedendo che paga niente se gli rende il capitale e paga qualcosa, se lo tiene fermo, mi manca che il fiato, che cosa farà secondo voi lo svizzerotto? Che fa le vacanze in Svizzera? Al limite viene in Italia, se mi boicottano la diretta, lei mi reghezzi sta rompendo le palle sul concetto che va in Italia in vacanza al limite, oppure fa due ore al massimo d'aereo, oppure va in un'altra regione della Svizzera dove si parla lo stesso dialetto e si compra la seconda casa. Hanno un botto di soldi, ma non sanno bene come spenderli. Noi italiani ne abbiamo di meno, ma li spendiamo meno. Che cosa fa? Non lascia i soldi fermi sul conto, perché gli spiace pagare quasi niente, ma sul danaro fermi e allora si compra una roba qualsiasi, ma cercherà di farli andare. Quindi evita di tenere soldi sul conto. In Italia, che non siamo più ricchi che in Svizzera, ci sono miliardi di soldi fermi sul conto perché c'è la paura dell'investimento, non c'è la cultura dell'investimento come negli Stati Uniti e perché tenere i soldi fermi non ha un costo. Qui in Svizzera si paga un piccolissimo swap. A questo punto lo svizzero si informa, capisce, investe nella vostra svizzera, compra delle azioni che gli danno un dividendo, dell'UBS. Si compra un immobile sotto casa sua di fianco per quando andranno i figli al matrimonio. Quello che vuoi, ma non tiene volentieri i soldi a fare niente, salvo non siano l'avanzo dell'avanzo dell'avanzo dell'avanzo. Perché un po' di resa, zero tassazione sulla resa, non è che ci pensi, è inconscio. Non ti viene voglia di pagare su un danaro fermo, invece contare i soldi che hai fatto, tassando di zero una grande figata. Questo è il motivo per cui la Svizzera è il paradiso dei traders. Perché il capital gain si fa o compravendendo azioni di una società per esempio tua, o di una società ma comprivendi le azioni di una società che ha un bar dentro, che ha un ristorante dentro. Interessante. Comprivendi le quote di una società, capital gain, tassazione, una cippa. Quello è figo. Quindi ho un ristorante, l'ho messo in una società, ho un hotel, l'ho messo in una società. Compravendo le azioni in Svizzera ci sono le società anonime, oppure ci sono le società tipo le SRL italiane, che si chiamano SAGL, io faccio capital gain così non pago tasse. Figo. Altrimenti faccio trading sui mercati finanziari. Non a caso la Svizzera è piena di banche di investimento e di società di gestione. Per due motivi. Arrivavano i soldi orfani, tra virgolette, da tutto il mondo e perché alla fine un paese di Svizzera è un buon modo di fare capital gain tassato zero. Vi è piaciuto il concetto? Quindi ci sono tanti paesi al mondo dove ci sono dei vantaggi. Questo è un paese che non è offshore, non è in backlist, ha una sicurezza sul diritto, sui tuoi averi, sui tuoi soldi, sulla tua titolarità. Se devono cambiare qualcosa fanno un referendum, di base non ci sono colpi di testa, sono neutrali nelle scelte politiche, fiscali, economiche. Non vedrete mai la Svizzera fare i bubba l'oro, né nel bene né nel male, né nella gestione delle notizie, dei momenti difficili, dei momenti politicamente, anche quando il franco Svizzera ha fatto il casino che ha fatto. Comunque loro non sono un popolo emotivo come quello italiano, europeo o sudamericano. Quindi loro sono molto pragmatici e lo vedete in vari campi. Per il trading online io non ho trovato un paese che ti potesse dare certe sicurezze che tassava come la Svizzera. In tutto il globo, potete girare tutto il globo, non c'è nulla che abbia lo stesso livello di sicurezza bancario, che non sia offshore, che ti dia questa possibilità. Questo? Indipendentemente da dove metti soldi sul tuo conto del broker, tu tassi nel tuo paese di residenza. Quindi se il conto FXD sta a Malta in Europa, io non tasso a Malta, tasso nel mio paese di residenza. Questo ve lo dico perché è importante Andrea, perché per molti la tassazione è il paese dove ho l'attività. Allora, se ho un'azienda a Malta, tasso a Malta, ma se ho un conto di trading personale, tasso nel mio paese di residenza. Che poi sia corretto tassare a Malta, se tu vivi in Italia e l'azienda è a Malta, è un altro discorso che esula dalla diretta, però se tu hai un'azienda e il conto è intestato all'azienda, tassi nel paese della domiciliazione fiscale dell'azienda. Ma se tu sei un residente come persona fisica, avrai una residenza sola, non è che ce l'hai dove hai il conto. Quindi tassi sempre nel tuo paese di riferimento, mai in quel paese, perché sarebbe un errore assolutamente a tutti gli effetti. Ecco qua infatti la replica di Norin. Questo è importante. Altre cose, se io alla fine dell'anno faccio plus valenza, cioè faccio un guadagno, 10.000 euro e non ritiro questi benedetti fondi, li tasso o non li tasso? Ve faccio 10.000 euro, faccio trading sul Forex, faccio trading sulle azioni, faccio trading sulle opzioni e mi fermo qua, se no poi si aprono altre questioni. Alla fine dell'anno, se non li prelevo, li lascio sul conto in quel paese, magari non in Italia, li tasso? Chi dice no? Allora, bene, attenzione, li tasso, sì che li tasso, li tasso, vedi? Non è vero, li devo tassare, capito? Li devo tassare perché io ho un reddito, se tu hai una partita IVA e chiudi l'anno in attivo, tassi, non è che non tassi, perché l'anno dopo vediamo, se tu hai una società alla fine dell'anno, tassi e poi l'anno dopo, al limite se fai perdite, recupererai quel bilancio di quello dopo e così le persone fisiche. Se tu hai un capital gain in Italia e anche in Svizz, alla fine dell'anno a consultivo dichiari quant'è, che lo recuperi, non lo recuperi, lo porti a casa, lo spendi, lo tieni, lo lasci su quel broker o quello che vuoi, lo devi assolutamente tassare, altrimenti fanno errore, non è che modo di girare intorno al tavolo, alla fine dell'anno lo devi tassare, punto, tutti quelli che vi dicono che non è vero è una gran balla, li devi tassare, che li lasci là, non li lasci là, hai fatto il forest, le azioni, le opzioni, devi tassare, poi li reinvesti, poi li perdi, poi fai quello che vuoi e devi tassare. Chiaramente c'è una cosa importante, se fai minus valenza, allora se purtroppo, benvenuta grazie, tu non facevi ancora codice max e non è colpa tua, non sapevi che c'è, hai perso soldi facendo forex, hai perso 5.000 euro nel 2020, poi hai scoperto che c'era codice max, che promo ragazzi, a questo punto ti sei iscritto, impari e guadagni e guadagni 10.000 euro l'anno dopo, nel 2021, benissimo, ora se tu dichiari da sola o da solo i tuoi proventi, dirai che siccome nel 2020 scrivi nella dichiarazione, non sapevo che c'era codice max, ho perso 5.000, nel 2021 ho fatto codice max, ho guadagniato 10.000, quindi ho il diritto di tassare la differenza dei due, cioè 10.000 nel 2021, meno i 5.000 nel 2020, quindi pagherò il 26% solamente sui 5.000 che cedono. Se invece io non faccio la dichiarazione a fino anno, ma mi prendo un broker o una banca che mi fa da sostituto di imposta, qual è il problema? Che nel 2021 mi tassano il capital gain in automatico, nella stragrande maggioranza dei casi, così generalizzo e non faccio un errore di imprecisione, e mi tassano tutti 10.000 e magari mi tassano ogni fine mese, ogni fine trimestre, invece no, io non voglio far così. Io alla fine dell'anno mi compilo due righi della mia dichiarazione personale sia in Italia o me lo faccio fare da chi di dovere e dichiaro io alla fine dell'anno qual è il vero profitto di tutto l'anno. Non voglio non pagare le tasse, le voglio pagare, ma non voglio pagare in anticipo. È inutile che a marzo pago il capital gain dei primi tre mese, ma chi se ne frega, alla fine dell'anno pago per l'anno che ho chiuso. Se ho una minusvalenza la riporto nell'anno dopo, fino ai 4 anni così era una volta, quindi per questo motivo io scelgo, quando stavo in Italia, che c'era già la legge, ma scelgo in, o vi suggerisco adesso, di non fare la dichiarazione sostitutiva, quella roba lì automatica dei broker. Fate voi alla fine dell'anno la vostra dichiarazione, anche se scegliete un broker che lo fa, voi dite che non volete quella roba lì, alla fine dell'anno vi fate la vostra dichiarazione. Ci siamo? Anche perché magari avete in giro dei bot, degli ETF, che ne so io cosa avete, fate il totale, tutto quello che va alla voce capital gain lo cacciate dentro nella stessa situazione, minus con plus e a questo punto andate, faccio un esempio, apro un conto di trading forex a novembre, sono sotto di 1000, perché non lo so, ho voluto dividere i conti, sono in attivo di 12.000 con quello che avevo dall'inizio dell'anno, 12 meno 1000, 11 dovrei pagare le tasse su 11, se invece io ho una dichiarazione automatica con un broker automatico che mi fa pagare, mi fa pagare sui 12 e per recuperare 1000 è uno sbatti, molto più che non farti fare la dichiarazione da qualcuno o tu, questo. Allora, c'è anche questo, se hai delle minusvalenze in un conto gestito, anche queste minusvalenze vanno a finire tra le cose del capital gain, quindi se qualcuno di voi ha una gestione finanziaria con una società di gestione, italiana o meno, quello va sotto la voce capital gain, insieme a tutto quello che avete fatto, quindi la compensazione è importante. Un saluto Pino dalla spiaggia, Brene, mi stai fregando, perché invece io sono nel luggiosa Svizzera dove è arrivata Mirella, è stato a prendere l'aeroporto di Bergamo venerdì, siamo rincasati, siamo arrivati a luna di notte quasi, due giorni di sole per accogliere Mirella, Mirella è contentissima di questo trasferimento, sono felice che lo sia e oggi pioggia perché bisogna far vedere fino in fondo il valdo di cosa è capace nella sua quotidianità. Allora, sono nuovo codiciano, quindi benvenuto Giuseppe. Allora, col prop trading funzionerebbe uguale, col prop trading è una storia diversa, perché tu non staresti facendo trading con i soldi tuoi, ma di una terza parte, quindi quella dovrebbe essere qualificata come attività professionale, virgoletto tutto, perché tutto ciò che esula da ciò di cui sono certo, io te lo virgoletto e ti dico dovrebbe, però non è capital gain, perché non è il tuo capitale, ma è un capitale di una società terza, quindi quello dovrebbe andare di pari passi in un'altra maniera, ok? Nuova anch'io, attenzione Susanna, quindi Susanna un super applauso, doppio applauso, una perché sei codiciana e una perché il senso femminile sta andando la ribalta nel trading online, ragazze e ragazzi sta andando la ribalta perché i vantaggi del trading sono moltissimi e le donne che hanno dei compiti, uno dice, fanno più cose degli uomini e quindi alla fine si rendono conto che quella libertà che gli può dare o gli potrebbe dare è una promessa in più rispetto al sesso maschile, quindi è una cosa importante. Allora, ci siamo conosciuti diversi anni fa, Maria Grazia, ok fantastico, 4 anni per recuperare le minus, allora i tassi anche se non li hai trasferiti sul conto corrente italiano, ecco quindi li tassi anche se non li hai riportati a casa i soldini, questo per parlare delle tassazioni e poi parlare di falsi miti che girano ancora da quando ancora un po' io andavo all'asilo, c'era sta roba qua. Allora, quando io non tasso i soldi di rendita finanziaria, se non li porto sul conto, c'è un unico caso che conosco, le polizze assicurative, le polizze assicurative anche qualora diano seguito a una rendita di capitale, poiché vengono investite in strumenti finanziari e ce ne sono, esempio io faccio una polizza flessibile con la possibilità di inserire gestioni, fondi edge particolari, gestioni attive, quel cavolo che vuoi, quelle polizze hanno un funzionamento particolare e in taluni casi, non posso generalizzare, non vengono tassate anche se chiudi l'anno in attivo fino a che non chiudi la polizza e porti i soldi a casa, ma perché quella è una polizza e ha delle particolari caratteristiche ed è uno dei vantaggi che piace a chi compra le polizza e che hanno fatto degli anni da urlo, fino a un po' di anni fa, ma tutto quello che è a rendita da patrimonio si tassa nell'anno fiscale. Allora, per prendere la residenza in Svizzera cosa bisogna fare? Ciao Lorenzo, prima di tutto bisogna venire a vivere in Svizzera, quindi non prendi la residenza così per così, poi devi avere la dimostrazione che hai un affitto, non hai detto che compra una casa, una busta paga, non vogliono persone che vagano così nel nulla o se hai una partita IVA che pensi che avrai un tot di clienti, ti paghi la cassa malattica, praticamente è il dottore in Italia che ti dà la mutua, qui te lo paghi, si parla di 350-500 franchi al mese, a seconda di quello che tu scegli, a meno che non butti dentro chissà che cosa costa anche di più, tra il piccino e il valdo ti posso dire che più o meno 350-500 franchi più o meno li paghi ed è la cassa malati che in Italia è la mutua per andare dal medico di base o per andare all'ospedale, tu c'hai questa roba qua, tesserino privato, quando gli garantisci che hai un affitto, non sei in giro, c'hai questa roba qua e hai una busta paga o un'attività che ti garantisce di stare qua, ti fanno un permesso, se entri e esci dalla Svizzera il permesso è G, quindi non sei residente, quindi non tassi qua, viene tassato il tuo stipendio qua, ma poi viene tassato per la rimanenza in Italia, poi c'è il discorso dei 20 chilometri frontalieri, chi se ne è mai finita qua, se invece tu sei residente in Svizzera avrai un permesso B o C, quindi col permesso B o C cambia un po' il modo con cui fai la dichiarazione, ma tassi qua, sei residente, chiaramente stai qui, alla tua casa è tutto, non è che te ne vai in giro, ma non è che te ne stai da un'altra parte e a questo punto sei residente qui, paghi le tasse qui per tutto, lavoro, azienda, capital gain, tutto quanto, ok? Allora, le banche Svizzera hanno le commissioni molto alte, questo è vero, perché Alberto ha assolutamente ragione? Perché i soldi cadevano dalle piante e quindi le banche Svizzera lo sapevano, quindi oltre a fare una gestione più o meno performante rispetto da altre banche, avevano commissioni su compravenita di azioni più elevate, perché? Perché la gente metteva i soldi qua, non ci pagava le tasse, non sapeva che fare, gli dava in gestione. È un riassunto molto cattivo e breve, però era anche la verità e quindi alla fine le banche un po' se ne approfittavano, però è anche vero che ti faccio un nome tra tutti, SanxoBank è un trader, è un broker e alla fine le sue commissioni buone, mi pare, no? Forse un pochino più altine, ma siamo comunque competitivi, perché comunque è un broker di trade, dopodiché chiaramente qui si parla di banche di investimento che con meno di 500 mila Euro di deposito non ti aprivano neanche il conto. Per prenderne una, che ricordo, BSI, che poi è dovuta passare ai cinesi, è stata compravenduta, mezza fallita, c'è stata una causa qui perché faceva robe poco chiare con i cinesi e meno di 500 mila ci sono alcune banche che ancora non ti aprono il conto, perché sono banche di investimento, non sono banche commerciali. Se vuoi aprire un conto con una banca comunque commerciale, vogliono sapere tutto, vita, morte, miracoli. La logica della Svizzera è sapere prima, è arrossire prima, com'è che si dice, che impallidire dopo. Quindi ti chiedo quello che ti devo chiedere. Se non mi sta bene non ti apro il rapporto. Una volta che ho aperto il rapporto, porto avanti il rapporto come si deve e allora faccio in modo che le cose siano ben fatte. E allora vado da un UBS, vado dalle poste, vado dalla banca Stato, vado da, come si chiama, Credit Swiss, vado dalla banca, lei mi prende con un appuntamento, mi chiede vita, morte e miracoli. Se non sono residente vuole avere la certezza che i fondi sono provenienti, regolari, tassati, reti di riciclaggio e tutto. Altrimenti non se ne parla proprio. Se sono residente comunque vuole sapere cosa faccio, volume d'affari, come li prendo, quanto penso di guadagnare, dove li metto. Poi quando il rapporto è aperto la serenità aumenta rispetto a questo tipo. Fare indagatorio però c'è sempre. Per esempio se tu fai dei movimenti particolari ti scrivono, ti chiamano, ti chiedono, ti controllano. Quindi non è così. È una roba molto attenta. Se tu le cose le fai regolari, loro ti chiedono, tu gli rispondi e problemi non ci sono. Ok? Nuovo codiciano. Ciao Andrea, ho combinato diversi disastri l'anno scorso col trading patacca, voglio recuperare. Allora cosa importante e raccomandazioni? Tu, cambia le tue abitudini, non pensare al recupero, perché la rincorsa può essere una brutta consigliera. Usare un buon modello di lavoro, ma una delle cose che può essere veramente cattiva consigliare è pensare di recuperare. La rivincita nel trading online non esiste come concetto, perché la caparbietà e la rivincita possono funzionare in tante cose nella vita, anche nel business. Anche se ti puoi rifare con la tua fidanzata che ti ha lasciato stronza, che è stata quel tuo amico o quelle cose lì, anche al contrario, nel trading online non puoi. Perché? Perché nel trading online, sto facendo un esempio, non sto parlando di lui, nel trading online rivincere, rivendicarsi no, perché ti porta in uno stato di rincorsa molto pericoloso. Te lo dico perché anch'io ho avuto le mie perdite e ho tentato di recuperare. Tu devi far conto che il foglio è bianco e parti nello stato di faccio le mie cose. Quando avrai recuperato le perdite e fatto anche molto di più, benissimo, ma cerca di non curarti di loro e passa, perché è un atteggiamento psicologico per avere un impatto molto importante, soprattutto se i pasticci sono un po' e sono recenti, quindi ancora non hai proprio chiuso perdonandoti l'errore, facendo pace con te stesso o cose del genere. Anch'io ho fatto le mie belle cappellate e quando sono fresche e quando sono abbastanza importanti, lo so, però meglio non avere quel tipo di cosa. Ah ok, quindi avevi detto giusta, perfetto. Quindi questo è importante. Tipo di permesso, ora io ho il B, perché per una serie di motivi non mi sono mai messo a fare l'upgrade, ma adesso ho chiesto l'upgrade. Ciao Valerio, quindi vediamo se con il trasferimento a Nidvald, faccio anche il passaggio da B a C, ho fatto un casino, perché ho chiesto il permesso C quando stavo in Cattonticino, adesso è stato trasferito a Nidvald, non ho permesso, ho fatto casino, ho fatto impazzire due migrazioni, quella Ticino è questa, Nidvald. E quindi alla fine mi hanno chiesto una pigna di documenti così in Ticino, un'altra pigna di Nidvald. Finito di mandare documenti, oggi ragazzi proprio faccio le cose al novantesimo, io cerco di fare il gol in rovesciata sotto il 7 col portiere che si sta buttando di Polli e Benji al novantesimo. E quindi oggi ho consegnato gli ultimi due documenti chiesti da Nidvald in upgrade rispetto alla pigna di quelle del Ticino, io pensavo di fare prima, avevo tempo in Ticino, ero lì che stavo facendo il trasferimento a Nidvald, ho detto parto da qua e magari la faccio più veloce, invece noi italiani pensiamo di avere creatività, non è sempre così. Quindi sono arrivato qua, mi hanno spiegato tutto, ho dovuto far trasferire la pratica, insomma alla fine ho consegnato gli ultimi due documenti, quindi adesso sono al ballottaggio, o mi ridanno il B o mi danno il C, però vabbò, quello sarà a far loro e decideranno, però tutto quello che devo fare l'ho fatto. Allora, sicuramente tutto quello che oggi è stato detto è agli atti, perché tutto quello che io dico in live è sempre registrato, voi sapete che le live dei social Facebook e YouTube rimangono ai posteri, se volete vedere cosa ho fatto nel 2019 quando facevo le prime live, andate là, trading, cose dove stavo, eccetera, tutto lì, quindi potete rivedere anche questa puntata assolutamente. Come viene considerata la tua attività di trading di Svizzera? Allora, fate attenzione, se fate molti movimenti possono essere verificati dal tassatore come attività professionale, se fate pochi movimenti, discreti movimenti, attività da rendita di capitale, punto e fine. Quello che io faccio per conto mio è attività mia, capital gain. Quello che io faccio con l'azienda va a finire in dichiarazione con l'azienda, poi sta a me decidere cosa devo fare da solo, cosa devo fare con l'azienda, perché lo faccio con l'azienda o meno. Per esempio, se io faccio un profitto con l'azienda è vero che posso mettere in deduzione dei costi aziendali. Se io ho un telefono, faccio un esempio stupido, aziendale e ce l'ho pagato con i soldi dell'azienda e anche il contratto, lo posso scaricare. Allora, se io faccio trading con i miei soldi non posso scaricare il telefono. Quindi, la scelta è, faccio trading con i soldi aziendali, pago il 9,76 e scarico il telefono, oppure faccio trading con i miei soldi, non scarico il telefono e non pago niente? Meglio la seconda di sicuro, però in ogni caso, avendo l'azienda con cui distribuisco servizi e avendo la mia situazione personale, posso decidere di fare un po' e un po' che non guasta mai. Perché ci saranno dei disavanzi sulla cassa della società che io posso tradare, per venirne in possesso dovrei pagarmi stipendi e o dividendi. Quindi dovrei prima tassarli, venirne in possesso e da quel momento lì pagherei solo l'imposta sul capitale e niente capital gain. Ci siamo? Fintanto che sono nella cassa e non li hai tolti a titolo, di stipendio, bonus, dividendo bene o male quelle sulle tre cose, sono nella cassa della società. Ne disponi immediatamente e non li hai ancora tassati nel bilancio, per cui puoi usarli per fare come vuoi direttamente. Dovrai aprire un conto aziendale, che è un po' più complicato. Allora, è bella questa qua. Questa qua non ho regno, io e te ce la possiamo inventare. Allora, se io sono in giro tutto l'anno, figlio di chi sono? Allora, oggi vivono delle leggi vecchie come il cucù su una serie di cose, tra cui la residenza. Quindi si prende atto nella totalità dei pianeti, dei paesi del pianeta vivente e conosciuti, che superati i 180 giorni, cioè sei mesi, un giorno in più, tre giorni in più, sei residente in quel paese. Ammesso che hai fatto tutto quello per esserlo, cioè se io sono nato italiano, residente italiano, passaporto italiano e vado sei mesi in Svizzera, non sono residente in Svizzera, devo prendere la residenza in Svizzera, iscrivermi all'Aire, cioè al registro degli indagati, no, anche al registro di quelli che non stanno più in Italia, che se ne sono andati e a questo punto non sto in Italia, requisito numero uno, non sto in Italia, perché se io mi iscrivo all'Aire, vado a vivere in Svizzera solo residente, poi alla fine vado in Italia a Roma, sono il più furbo, sono il più furbo. Quindi nel registro dell'Aire ci sarà Mario Rossi il più furbo. Se invece io sono almeno 66 mesi in Svizzera, mi sono iscritto all'Aire, ho i requisiti per essere residente in Svizzera, quindi l'Aire sa che non sono più in Italia e sono in Svizzera, siamo a posto. Poi il problema si pone se tu giri più di sei mesi in Svizzera, allora qual è il problema? In Italia non è più niente a che fare, sei iscritto all'Aire, non ci sei più e hai il centro dei tuoi interessi altrove che sono fiscali, personali, eccetera, eccetera. Quindi bene, la Svizzera potrebbe dirti, sì Max, ma se non ci sei mai, faccio a palli ratti, però voglio dire, se fai qualche tempo che giri un po' di più di sei mesi, che cosa ti devono dire? Io ho da dieci anni che sono fermo in Svizzera. Quindi a parte le tue vacanze, potresti servire un po' di motivi, motivi di lavoro, no? Motivi di lavoro. Ora, di base la compatibilità con la residenza è essere nel paese dove dichiare di essere, non fare le robe finte, stare in quel paese più di sei mesi, di solito è 181, 183 giorni e a quel punto avere tutto quello che serve per essere residente, quindi essersi dichiarato al paese, avere l'attività e dichiarare lì, fare trading lì, cioè far capire che tu guadagni dei soldi, che tassi lì perché vivi lì, hai il dottore lì, usi la carta di credito lì, vivi lì, il centro dei tuoi interessi, hai la tua donna lì, la tua moglie lì, i bambini vanno a scuola lì, questa è la base della fiscalità. Poi mettetelo tra virgolette, non sono fiscalista, però di base a oggi questo è. Se io giro tutto l'anno non sono figlio di nessuno, in realtà se giri tutto l'anno, hai il passaporto italiano, nato in Italia, residente in Italia, sei italiani, residente in Italia, tasti in Italia. Giustamente tu dici, ma io sono sempre in giro, è vero, però non esiste la residenza del nomade digitale, esiste la identità digitale in quel paese che l'ha creata, dove tu te la pigli anche a distanza, ma poi alla fine di base ci devono essere delle caratteristiche affinché la tua residenza sia reale e non realistica, sulla base di queste leggi che mi rendo conto che sono vecchie, però è così. Per aprire un'azienda qua è una storia un po' particolare. Ci sono due tipi di aziende, le società anonime che lo sono ancora, ma un po' per finta perché le azioni che erano al portatore adesso sono nominative, quindi chi le ha non è sulla società, c'è scritto il nome di chi sono le azioni e c'è un registro dove c'è scritto di chi sono le azioni, però non è pubblico, quindi se tu sei residente svizzero e non hai fatto delle robe particolari, nessuno viene a sapere che le azioni sono il tuo e di chi sono. Altrimenti ci sono SAGL che sono delle simil SRL italiane, il cui capitale sociale è di 20 mila o 22 o 25, non mi ricordo, 20 mila franchi, le società anonime invece 100 mila franchi, interamente versato, quindi le devi cacciare, ci sono delle modalità per cui non versarlo integramente, però io per aprire la società di base sarebbe meglio assolutamente fossi residente. In Svizzera l'amministratore unico di una società deve essere residente svizzero, quindi ti passa la voglia di mettere uno che amministra la tua società che non sai bene che cosa deve fare, chi è, non è il massimo. In altri paesi se non sei residente puoi essere comunque amministratore. Altro problema, non è più come prima che il fiduciario ti fa anche da amministratore, perché si prende dei rischi. Esempio, tu non paghi le imposte, non paghi la previdenza sociale ai dipendenti, non fai della roba, lui si prende dei rischi, quindi è anche difficile trovare un amministratore. Peraltro, se non sei residente svizzero, quando distribuisci i dividendi c'è un'imposta preventiva del 35%, la Svizzera è stata il paese, la banca di tutto il mondo, quindi i soldi arrivavano, ma non volentieri la Svizzera li faceva uscire, quindi se tu hai una società e distribuisci l'utile, la società paga un'imposta preventiva del 35%, che se il titolare delle quote degli utili ne beneficia sul territorio svizzero, quindi per cui Poscia è residente in Svizzera, scarica e recupera al 100%, quindi di base il trasferimento degli utili dalla società alla persona fisica, ha la tassazione A, quella che paga la società, più la tassazione B, che sei tu chi li ricevi, quindi in Ticino paghi il 21% sulla tassazione della società e il 21% per ritirare gli utili, sono un po' di soldini. In Niedvalden paghi 9,76 la società, più 9,76 chi li riceve, se però chi li riceve non è un residente, la società che paga il 35% di imposta non li recupera nessuno e quindi a quel punto quei dividendi sono tassati parecchio. quindi uno che ha voglia di fare una società in Svizzera, secondo me sarebbe bene che risiedesse in Svizzera, anche perché i costi non sono leggeri, cioè se uno non fattura almeno tot, non fa certe cose, la Svizzera diventa proibitiva, il costo della vita va dal doppio al triplo di quello della vita italiana, Milano e Roma, se non di più, per cui uno che fa dei numeri buoni qui trova un paese buono, però attento, cioè per venire qui se non siete in ordine dovete venire così per così, non è il posto giusto, perché comunque loro verificano molto, soprattutto se venite a Nivaldo, a parte il tedesco, verificano benissimo, non vogliono casini di base, per cui dovete avere intenzioni serie e avere in mente che ci saranno certi movimenti. non è importante avere nessun titolo di studio per aprire una società, i soci possono essere uno o possono essere massimo attenzione 21, 20 o 21, perché in Svizzera sia che fai una società SGL, sia che fai una società anonima non puoi avere più di 20 o 21 soci, altrimenti devi fare una segnalazione all'organo di vigilanza come la Consum, che è la FIM, perché non si vorrebbe che una società di capitali diventasse una società di raccolta capitali, per cui siccome alle volte il confine è sottile, allora attenzione, però tu puoi essere da solo o più di uno fino a un massimo di 20, 21, non mi ricordo, l'amministratore può essere unico, puoi fare il CDA come da tutte le parti del mondo, l'SA è praticamente l'SPA italiana, solo chi ha la questione di quello pseudo oramai anonimato, quindi questo è il tema, a questo punto tu ti prendi un fiscalista, vai e lui ti spiega, scegli il nome della società, scegli la tipologia, depositi i fondi su una banca, vai dal notario che qui non esiste, ci sono gli avvocati che fanno o i penalisti o i civilisti e nei civilisti c'è anche chi fa, e spetta il ruolo del notario italiano, ti fa quello che devi fare e viene registrata su quello che in Italia registra di commercio, quello ZFX e a questo punto tu hai sullo ZFX l'SAGL o l'SA, l'SA chiaramente non dice chi sono i soci perché è un SA, se andate sullo ZFX vedete la società Ideas Incubator che praticamente ha 100.000 più 100.000, 200.000 di capitale sociale, AG è diventata, perché adesso in tedesco abbiamo cambiato cantone, ci tenevo anziché S A essere AG, c'è il nome dell'amministratore perché sono io unico, ma non ci sono i soci perché è una società non, e questo è il tema, quindi lui vi spiega tutto quello che dovete fare, poi ci sono gli adempimenti, le tasse, l'AWS che sarebbe l'Inps italiana, le buste paghe e tutte quelle robe là. Allora, questo è il tema fondamentale, vediamo se ci sono altre domandine, nel frattempo ci sono un po' di notizie previste questa settimana, ma in particolare per il Forex prevista breve riduzione del QE, questa è una notizia importante che è uscita e che si aspettava che a un certo punto arrivasse ed è arrivata, quindi c'è stata un'anticipazione di questa manovra che a un certo punto non arrivava più e si continuava a rimandare, a dirlo sono gli stessi Stati Uniti e quindi questa cosa è sicuramente da attenzionare perché nel mercato Forex è una notizia importante, ma oggi non parliamo di quello, quindi andiamo avanti con la fiscalità. Ok, allora se volete, vabbè guarda io ho il mio di fiscalista, ti dico mi trovo bene perché è una persona con cui lavoro da sempre, però di queste robe qua non mi occupo perché non è il mister, né ci guadagno un fracchettino, ma non mi interessa guadagnoci un franchettino, ma non è il mio, per cui io lavoro bene con la persona che mi segue, ma non è che dico lavoraci, non lavoraci, ce ne sono centomila di studi, la cosa fondamentale è voler fare le cose bene, ecco. Allora qui è una storia così, se uno fa tante operazioni potrebbe passare come attività professionale, qui esiste il tassatore che di base è colui che è il tuo referente quando tu dichiari, di base se lui vede che tu fai le tue robe, paghi le tue tasse, al limite ti fa una contestazione, dice guarda amico Stefano, per i seguenti motivi c'è qualcosa che non mi è chiaro, mi spieghi? Quindi la contestazione è feroce se tu fai delle cose abbastanza semplici, per esempio era di prassi che qui in Svizzera Porsche, Ferrari, Cayenne e bim bum bam venissero messe sotto la società e scaricate, a un certo punto il fisco adesso basta, basta. Quindi puoi scaricare la tua macchina al 100%, se ne hai una privata su cui paghi già il tuo leasing, le tue tasse eccetera, se non hai una macchina tua e ci butti dentro il Porsche o il Cayenne in azienda, questa roba no, allora io ti creo un'imposta da farti pagare a te, quindi un po' la paga l'azienda e un po' te, quindi tu alla fine ti trovi l'80% del costo. Se le macchine sono due, tu ne hai una e ne hai una in azienda, bene, se ha una 500 tu e in azienda è un Cayenne, ancora una volta il tassatore ti prende per un orecchio, quindi alcune cose non sono più ammesse e il tassatore ti manda a casa da pagare il bollettino e ti dice guarda pagalo, se poi vuoi contestarlo contestalo, però non c'è trip per gatti, se gira il bollettino c'è scritto così. Su altre cose invece ti chiede e ti dice in dialetto milanese in Picino qua non so, questa roba qua non mi è chiara, allora tu apri e spieghi, a me è successo, subito il primo anno che sono arrivato, gli ho spiegato, basta finita. Quindi tutto quello che potrebbe avere una zona di grigio tu di base glielo chiedi e glielo spieghi, quindi potrebbe uscire una notifica che ti dice già quanto devi pagare e la contesti tu e gli dici perché, oppure potrebbero dirti ok dammi questi documenti perché tu sostieni questo, io non capisco. Tipo, tu hai solo un tipo di attività, fai certi movimenti un po' particolari, non lo so, allora lui potrebbe chiederti le tue cose. Una parte del lavoro lo fanno le banche, oramai abbiamo fatto dei movimenti di recente che poi vi spiegherò a settembre perché e ci hanno chiamato tutte le banche che ci conoscevano, quindi se fai movimenti fuori da certi criteri ti chiamano le banche che fanno un po' la lungomano del fisco, verificano loro per il fisco morta lì, molto più veloce ed efficace che aspettare una revisione di bilancio. Ok? Spero di averti aiutato. Cosa ne pensi del DAX? Beh, da non andare short perché comunque ancora è forte, poi io lì non ci faccio grandi cose. Ciao Max, chiamata fatta con Christopher, molto professionale e gentile. Bene, faremo i complimenti a Christopher, che è complicato, si scrive CH-RISTO-P-H-E-R, c'è una roba complicatissima, quindi gireremo i complimenti a Christopher, grazie mille a te, molto bene, quindi cerchiamo di portarci a casa roba importante. Però cosa è importante? Oggi la fiscalità segue la tua residenza e la tua residenza segue il tuo stato fisico di dove vivi, dove hai 200 di interesse, le tue robe. Non è una roba così per così. anni, anni e anni ci sono stati di scudi fiscali, recupero, quella roba lì che facevi quello che voleri e poi alla fine arrivava qualcosa lì che con 10 mila Euro il condono. Ci sono state i soldi a Panama, ci sono state tonnellate di robe, il segreto bancario, che sì. Adesso hanno detto basta, perché di roba ce ne hanno in giro un bel po' e quindi la maggior parte dei paesi anche più leggeri hanno alzato delle barricate. E attenzione, perché una cosa che non dice nessuno, perché chi la fa non la dice perché ha fatto una roba che non può dire, è portare soldi in banche, società, residenze a casa del più creativo dei nostri amici e poi trovarsi senza poter disporre di quei danari. Perché li ho portati a Panama? Perché li ho messi in quella banca? Perché mi hanno detto di metterli in quella società, ho fatto evasione fiscale, è un tema. L'altro problema è che non recupero neanche quei soldi. Quando è arrivata la volontà di disclosure, in realtà gli ha detto ultima chiamata che i soldi fuori, pagare il 30, quel che lei porta a casa, altrimenti siete fottuti. Chi non l'ha fatto perché non voleva dire ho fatto questo, comunque si è trovato le lettere delle banche svizzere che gli hanno detto vattene perché non sei più un cliente che noi vogliamo. Oppure fai sta volontà e lo dichiarali. Se non succedeva tu non riuscivi a recuperare i soldi perché loro li bloccavano, perché altrimenti facevano un reato come stato, come banca. E se tu hai fatto il furbetto in varie salse c'è il rischio che ti trovi dei soldi su una banca o in una società dove sono orfani o su certe carte di credito, vi faccio un esempio di una storia che vi spiegherò perché io ho avuto un controllo di routine su una roba che vi spiegherò a settembre, figata, pazzesca e quindi alla fine anche lì tutto regolare, bene sblocchi, ma se non è regolare non sblocchi niente. Paypal quando tu lo apri per incassare, dopo un tot di movimenti che fai, se non metti 5 mila euro o 2 mila al mese, comincia a verificare l'origine dei fondi, se tutto va bene, ti blocca l'account e ti dice fammi vedere, se è tutto a posto, tutto a posto, però se facendo delle cose che non sono a posto, niente a posto, quindi non pensare di fregare solo lo Stato italiano che è un problema che non dovresti affrontare, ma la lunga mano della fiscalità sono diventati le banche, sono diventati gli istituti che incassano, quindi anche Paypal, sono diventate le varie carte di credito che hanno anche l'Iban come la Revolut, cioè sono la lunga mano degli Stati, quindi se fate delle robe che non sono fatte bene, anziché pagare meno tasse, ti crei un problema. Sì, le mie posizioni short sull'euro dollaro le tengo, ecco, vai a vedere tutta la registrazione con il file che ho qua piccolo, grande, che avevo ingrandito prima e ti spiega tutta la tassazione del trading online in Svizzera, quindi è vero che non si pagano le tasse, valla a vedere bene, c'è la tassa sulla sostanza, che alla fine è così. Sì, allora chiaramente il mondo cripto è un po' particolare perché c'è chi dice si pagano, c'è chi dice non si pagano, io riassumo dicendo tutto quello che tu guadagni deve essere tassato, se no prima o poi qualcuno lo tasserà e se non l'hai tassato magari cuore dei guai. Allora, al di là di chi se ne dice, per me è una rendita, è un lavoro, è una tassa, è una rendita di capitale, quindi alla fine è un capital gain, non ci vuole una scienza esatta, per cui io mi muovo in quest'ottica qua, senza pensare che siccome eccetera eccetera, così alla fine nessuno mi dirà mai niente. Ok, molto bene, siamo stati bravi anche oggi, 1h05 di diretta, ragazzi, vi devo fare un annuncio speciale, quindi domani vi aspetto in diretta. Un annuncio speciale, non sono incinta, però domani vi dirò. Allora, io non è che non rispondo su Instagram, è che non rispondo più da nessuna parte perché siamo in tanti e quindi c'è il mio team che su Facebook, Instagram, Whatsapp, Mail risponde, non è questione di essere antipatico, è perché alla fine abbiamo un'organizzazione che fa questo. Ok, quindi quando vedete che qualcuno vi risponde, dai nostri profili ufficiali, non quelli fake che ci hanno creato, è sempre il team che risponde. Potete chiedergli le cose, però non sono io a rispondere personalmente perché non potrei farlo più, siamo tanti. Allora ragazzi, io vi aspetto domani per una diretta in Perdido, così vi do la news e non so se alle 5, alle 6, giù di là, quindi sempre nel canale Telegram che vedete qua sotto che passa, Vivere di Trading, potete rimanere aggiornati sui miei spostamenti e sulle mie notifiche. Anche oggi abbiamo aggiornato le posizioni per cui chi fosse arrivato in ritardo può sapere che abbiamo chiuso qualche posizione in profit e quindi i profitti del mese sono andati a 19.228, queste sono posizioni chiuse e consolidate, ma ci sono delle posizioni anche aperte che lavorano. Oggi abbiamo chiuso Audi, USD, Shorter, almeno io personalmente, e ho comunicato come sempre faccio in Telegram ai famosi codiciani. molto bene, benvenuto Christian Casci come codiciano in Svizzera, fra l'altro ho scoperto di avere vicini di casa nel cantone Nidvaldo o Lucerna, quindi dove vado vado ci sono traders che fanno parte della nostra community, anche a Ossona ci sono a meno penso 5 persone codiciane codiciane e quindi dovremo istituire i sindaci digitali dei codiciani regionali, nazionali e internazionali, perché fra l'altro ci seguite da qualunque parte del mondo. Vi ringrazio per essere stati con me quest'oggi, ci vediamo sicuramente domani per la news che ho da comunicare. Il canale Telegram è gratuito e pubblico, vivere di trading, invece quello dei codiciani è segretato e solamente per chi è dentro CodiceMax che è il mio gruppo di lavoro, studio e trading sul Forex di Lugano. Perfetto Christian. Ok, una domanda veloce, vai che siamo in chiusura, che siamo sui ringraziamenti, vai con la domanda veloce, vai, vai! Su che poi chiudiamo e ci vediamo domani per una speciale live simpatica. Se hai già un lavoro come faccio a tassare le robe della borsa? Se hai già un lavoro puoi tassare le cose della borsa perché tu avrai una dichiarazione sia come B che come C e potrai tassare il lavoro da una parte e il capitale del trading e i profitti del trading da un'altra parte. E proprio sono due parti diverse, anche in Italia è così, in Svizzera è un po' diversa ma sostanzialmente è così. Chiaramente ti avvali di un fiduciario svizzero che ti fa, quindi ti metterà la sostanza che è i soldi con cui fai trading in un riquadro, ti farà pagare sul riquadro della sostanza mentre il tuo lavoro se sei dipendente è già tassato a seconda di B, C o addirittura se sei in Svizzero dall'azienda. Poi magari una parte devi pagarla tu, questo dipende. Allora qual è la mia pagina ufficiale Instagram? Adesso hanno fatto sto casino che ci hanno clonato il profilo, li mortacci loro. La pagina è Max Mereghetti. Allora ti direi non puoi sbagliare, in realtà sì perché c'è questa Max Mereghetti official che sostanzialmente non posso condividerla perché in questo momento non riesco a logarmi da PC, comunque è Max Mereghetti, non è Max Mereghetti official, ci hanno clonato la pagina quindi sembra sostanzialmente la stessa. Ok, allora domani lavoro, che grazie mille, perfetto. Ragazzi ci vediamo domani con questa diretta super che voglio fare con un annuncio speciale. A domani, grazie mille, buona serata a tutti voi.